Oggi si ricordano i santi martiri, beate martiri spagnole croce rossine di Astorga, tre infermiere beate. Era il 1936, la guerra civile imperversava in Spagna. La mattina del 27 ottobre, tre giovani infermiere vennero scambiate per suore e fatte prigioniere dai soldati ribelli. Avrebbero avuto l'opportunità di fuggire, ma non volevano lasciare i loro pazienti. Vennero picchiate, stuprate e torturate perché rinunciassero alla loro fede. Ma in vano sono state uccise in odio alla loro fede. Lodiamo il Signore per la loro testimonianza evangelica.